Esordio in Coppa del Mondo Assoluto e subito qualificazioni al tabellone principale per Benedetta Fusetti. Contenta Benedetta di questa prima giornata di gare? Sì, ciao a tutti, sono molto contenta. Questa è la mia prima Coppa del Mondo che faccio. Poi anche a casa mia perché io sono di Padova e quindi sì, è emozionante e molto bello. Poi soprattutto perché appunto sono passata a tabellone 64 e ancora più contenta. Ecco, giocavi in casa, giochi in casa, giocherai anche domenica in casa. E avrai sentito, immagino, tanto parlare del Luxardo, di questa gara ormai di grandissima tradizione che torna. E torna per la prima volta anche per voi, anche per le ragazze, anche al femminile. Quindi voglio chiederti un po' che cos'è per te questa manifestazione. Sì, io fin da piccola venivo sempre a vedere Luxardo perché appunto è la casa mia. E venivo sempre a vedere poi i campioni come Zilagio, vabbè, però era solo maschile all'inizio. Quest'anno è anche femminile, quindi ancora più fortunata e ovviamente una grande emozione. E quindi, ecco, a casa mia. Ho sentito anche il calore del pubblico, dei miei compagni, dei miei amici, del mio maestro Alberto. E quindi bellissimo.